Una settimana lunga per ricaricare le pile e cercare la svolta. Si avvicina la sfida di Caserta in programma lunedì sera, una gara dove il Foggia cercherà l'immediato riscatto ma su un campo complicato e pergiunta al cospetto di un avversario che scoppia di salute e che nelle ultime sette gare di campionato ne ha vinte ben sei, pareggiando solamente col Crotone. Quella stessa casertana che finora è stata l'unica a far conoscere l'amaro della sconfitta, la capolista Juve Stabia e che si candida insomma ad essere la mina vagante del girone. Nel frattempo la squadra di Mirko Cudini continua la sua marcia di avvicinamento all'importante e allo stesso tempo delicato appuntamento e da fare il punto della situazione è il difensore Davide Riccardi. Analizzando i gol presi sono tutti episodi diversi quindi non so se non posso dire che cambiare modulo ogni volta ci possa penalizzare delle volte ci ha portato dei benefici non lo so sinceramente noi facciamo quello che ci chiede il mister poi ci adattiamo ecco sicuramente quest'anno la prima volta che mi capita di cambiare così spesso modulo e io ovviamente faccio quello che mi chiede il mister senza alcun tipo di problema. Solo la vittoria ci può dare il suo dimorale perché perdere in casa non è facile davanti ai nostri tifosi e abbiamo visto come questo campionato sia abbastanza equilibrato la casertà è una squadra di tutto rispetto secondo me singolarmente molto forte e ovviamente dobbiamo andare lì non tirandoci indietro perché appunto perché veniamo da una sconfitta in casa dobbiamo cercare di portare cioè andiamo per portare a casa il bottino pieno poi si vedrà quando saremo lì ovviamente noi abbiamo una settimana lunga dove possiamo preparare al meglio questa partita qua con la consapevolezza di che dobbiamo portare i punti che è quello che alla fine contano la cosa più importante di tutte